Siamo al Torino Comics, ho portato la torta perché oggi è un giorno speciale, ovvero il mio compleanno. Adesso facciamo un giretto, becchiamo un po' di amici, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Ciao, sister! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie ragazzi, gravi abbraccio! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!